Buonasera a tutti da Matteo degli Asprilas. Oggi facciamo un primo video per il Parma che verrà, primo atto della stagione 2022-2023 del Parma ed è la mancata riconferma di mister Iacchini sulla panchina del Parma. Con uno scarno comunicato, oggi pomeriggio il Parma ha comunicato che non ci sono più le condizioni per proseguire insieme. È sufficiente questo per rilanciare le ambizioni del Parma in vista della prossima stagione? Guardate, io ero fra quelli che non immaginavano una nuova stagione del Parma con mister Iacchini perché l'obiettivo minimo che si poteva centrare e che sarebbe stato da centrare, che i play-off, non sono stati raggiunti e secondo me mister Iacchini sarebbe stato di nuovo allenatore del Parma se almeno quell'obiettivo minimo fosse stato centrato. Non è stato centrato quell'obiettivo e come sempre paga l'allenatore. È sufficiente? Evidentemente no. Il Parma, l'abbiamo parlato più volte nelle live degli Asprilas, ha pagato deficit strutturali. Quindi io sono d'accordo che fosse difficile immaginare una nuova stagione con Iacchini e la guida, ma questo non sia l'alibi per non cambiare. Anche l'approccio con cui questa squadra viene costruita. Dire questo non vuol dire volere male del Parma, vuol dire volerne il bene. Quindi speriamo che l'attuale gruppo dirigente della società dimostri di aver recepito i principali problemi che ci hanno portato alla condizione in cui siamo oggi. In primis non essere riusciti a costruire un nucleo solido di giocatori di esperienza che potesse accompagnare la crescita dei giocatori giovani che abbiamo. Danilo non è stato l'Alves del primo Parma di D'Aversa e quindi c'è bisogno di un uomo di esperienza in mezzo al campo, in mezzo alla difesa. C'è bisogno assolutamente di un centravanti che faccia quello che non è riuscito a fare Roberto Inglese quest'anno. Perché senza un centravanti da 15-20 gol non si vincono i campionati. Quindi c'è bisogno di un'amalgama diversa, di una squadra costruita in base alle esigenze dell'allenatore e questi sono i principali insegnamenti che secondo me dovremmo trarre dagli errori del passato. Ora come tanti ci chiedono con chi ripartire in panchina. I principali nomi sono quelli di Grosso, di Zanetti, di Inzaghi, di giocatori anche altisonanti, di allenatori altisonanti come Gattuso e De Zerbi. Guardate, sono tutti nomi importanti. Ovviamente Gattuso e De Zerbi sono di un'altra categoria ma forse anche Paolo Zanetti potrebbe essere un allenatore positivo. L'importante è che se l'allenatore dà delle indicazioni alla società, la società le rispetti e che quindi si cerchi di soddisfare le esigenze che gli allenatori esprimono. Perché non sono le esigenze della società a quali l'allenatore deve piegarsi ma sono la società che deve cercare di disaudire le necessità dell'allenatore perché poi è l'allenatore che mette in campo le squadre. Quindi aspettiamo di vedere quale sarà la scelta dell'allenatore e immaginiamo che debba essere una scelta da fare in fretta perché poi il mercato è sostanzialmente già partito sotto traccia e espluderà quando saranno finiti i campionati. Nel frattempo noi cercando sempre di fare bene del Parma approfondiremo ancora nelle prossime settimane quelli che sono stati gli errori che sono stati commessi fino ad oggi. Non perché sbagliare non sia possibile ma perché parlare degli errori che ci sono fatti ci aiuta e speriamo a non commettere perlomeno gli stessi errori utilizzando l'esperienza che abbiamo alle spalle. Ne faremo di altri e di nuovi? Probabile perché sbagliare si può ma continuare a fare gli stessi errori non è possibile, è diabolico. Quindi nelle prossime settimane commenteremo le prossime scelte del Parma nel frattempo salutiamo mister Iacchini che evidentemente non era l'allenatore che potesse risolvere dei problemi così di fondo che aveva questa squadra. Gli auguriamo ogni fortuna nel proseguo della sua carriera anche perché questo glielo possiamo riconoscere e glielo dobbiamo riconoscere la causa del Parma dato tanto se non tutto quello che aveva. Ciao a tutti da Matteo degli Esprilas mi raccomando ricordatevi di condividere i nostri video, di sostenerci su Patreon, di iscrivervi al canale che è molto importante e ci vedremo nei prossimi giorni con altri contenuti del nostro canale. Ciao a tutti e buona serata.